il fantastico mondo dei muretti a secco io da sarda dovrei conoscerlo questo mondo perché se avete presente la sardegna conoscete anche i nuraghi quelle costruzioni di pietra che risalgono a 3 4 mila anni fa e che stanno ancora in piedi nonostante appunto siano state costruite con pietre senza nessun tipo di cemento che le tenesse insieme appunto i muretti a secco gli stessi muretti che si trovano nei campi in sardegna ma anche in irlanda e molte altre parti dell'europa oggi ho scoperto che esiste un evento internazionale per la costruzione di muretti a secco in miniatura mi dispiace quando ascolterete questi tre minuti grezi comunque sarà troppo tardi per partecipare perché il limite per la spedizione delle fotografie dei muretti a secco è il 10 di ottobre quindi domani mi dispiace dovrete vedere un po il prossimo anno vi metterò comunque il link nelle note del programma e questo questa questa gara internazionale per la costruzione dei muretti a secco in miniatura è un mondo fantastico c'è questo sito dove naturalmente ci sono le foto dei vincitori delle varie edizioni e ci sono poi le istruzioni per chi volesse cimentarsi per la prima volta nella costruzione di questi muretti a secco e anche con con consigli ad esempio dicono mettete delle pietroline un po più grandi ai lati e che servano un po come telaio e poi riempitele con le pietroline con le pietrine più piccole usate le pietre piccole sotto e quelli grandi sotto e quelle più piccole sopra e poi costruitele con tutte le fogge che volete con tutte le forme date anche un nome al vostro muretto a secco al tipo di costruzione e quando fate la foto raccomandano non dimenticate di fotografare il vostro muretto a secco accanto ad un oggetto per far vedere la scala per far vedere le dimensioni infatti queste foto che ci sono nel sito i muretti sono sempre a fianco a monetine da un euro da 50 centesimi tappi di bottiglia perché sono veramente molto piccoli e ci sono poi anche il link a corsi che vengono offerti anche come premio uno di questi corsi è come disegnare i muretti in miniatura e io ho scoperto un vero e proprio mondo all'inizio ho cominciato a guardare il sito con un'aria un po di superiorità di angola un po che cosa si inventa invece poi man mano che tu cominci a leggere a vedere ha voluto a vedere le foto sono affascinanti e niente ci si appassiona comunque i premi sono per il miglior muro quello più originale quello con il più alto numero di archi quello per la miglior fotografia eccetera insomma un sacco di categorie